Ma per quanto riguarda il rapporto col Presidente insomma lo sapete che col Presidente Lottito è un rapporto che va al di là del rapporto classico che c'è tra Presidente e allenatore quindi abbiamo parlato dopo il Bruges, abbiamo parlato dopo Menevento ed è normale che da Presidente era contento della qualificazione dopo il Bruges e giustamente si aspettava di più tra Verone e Benevento di più di un punto però tra di noi non c'è nessun tipo di problema. Ma io penso che io parlo tanto con la squadra, abbiamo parlato, abbiamo analizzato come è giusto che sia insomma abbiamo visto che il cammino in campionato in questo momento è stato, ci mancano qualche punto però abbiamo parlato tanto e analizzato, ora sono sicuro che risponderemo coi fatti come è sempre stato in questi anni penso che già la domenica con Napoli la squadra ha voglia oltre che in Europa di fare molto bene anche in campionato. Ma adesso vediamo, ci sono speranze, il ragazzo dice che sta bene, si è allenato parzialmente, ha dato buone risposte adesso vedremo come va l'allenamento di oggi, poi insomma valuteremo insieme allo staff medico insieme a tutti. Beh, senz'altro quest'anno stiamo subendo di più rispetto all'anno scorso, gli uomini sono rimasti pressoché gli stessi quindi probabilmente non è una questione solo dei difensori ma è un discorso di squadra e quindi bisognerà cercare tutti di fare una fase difensiva nel migliore dei modi per cercare di prendere meno gol possibili come è stato l'anno scorso che penso che siamo stati la seconda miglior difesa del campionato. Ma sicuramente sì, noi lo sapevamo che probabilmente avremmo avuto delle difficoltà giocando la Champions, giocando partite così ravvicinate poi abbiamo avuto delle problematiche aggiuntive perché insomma non vorrei dimenticare che noi oltre tutte le partite ravvicinate abbiamo avuto degli uomini molto molto importanti tra cui Ramos, Leiva, Milinkovic, Luis Alberto, Immobile, Lazzari stesso, che hanno avuto il Covid e alla lunga queste assente si sono fatte pesare adesso sono tutti rientrati, abbiamo concluso nel migliore dei modi il nostro percorso europeo e adesso l'unica nostra concentrazione deve andare al campionato dove abbiamo perso qualche punti ma abbiamo tutto il tempo e spazio per poter rientrare nel migliore dei modi.